Si fa presto dire usato, ma c'è usato e usato. Non sempre un usato ti dà le garanzie che vorresti. Ben 160 controlli accurati, massima qualità, check-up gratuito, assistenza stradale, fino a 36 mesi di garanzia, alta professionalità, un programma di gestione dell'usato premio. Di sicuro chiunque può offrire l'usato, ma un usato sicuro, solo Alfa Romeo Jeep te lo offrono. Selected for you, l'usato garantito di Jeep e Alfa Romeo.